Domanda, perché l'uomo nelle sue vite deve spesso soffrire? Risposta, la sofferenza attraversa come un cane fedele i vostri passi all'interno del piano fisico, perché è l'arma principale che la legge d'evoluzione ha per farvi comprendere ciò che non volete comprendere. La sofferenza attraversa come un cane fedele i vostri passi all'interno del piano fisico, perché è l'arma principale che la legge d'evoluzione ha per farvi comprendere ciò che non volete comprendere. Domanda, perché l'uomo nelle sue vite deve spesso soffrire? Risposta, la sofferenza attraversa come un cane fedele i vostri passi all'interno del piano fisico, perché è l'arma principale che la legge d'evoluzione ha per farvi comprendere ciò che non volete comprendere.